signore lei è proprio un ignorante ecco qua io è ignorante come sono ignorante i ragazzi vieni lì vieni i libri di tutto qua coppa al librerino da scrivere dei diretti con i tavoli con i piccoli con i piccoli con i piccoli con i piccoli signore per me comunque è ignorante moro non moro è ignorante si 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 si